E qui la festa? Se ne parlava già da un paio di settimane a Roma, ma soprattutto perché erano state montate due sfere, al Foritalico e a Ponte Mibbio, due sfere dall'aspetto misterioso, pericolose, mattari, alieni, quasi. E la sera della festa, quando sono state aperte, hanno rivelato che contenevano ciascuna una nuova smart, alieni dunque no, ma certo proiettati in avanti, verso i domani della mobilità. La festa vera e propria poi ha raccolto qualche migliaio di persone al Palatiziano, più noto nella capitale come Palazzetto dello Sport, dove musica spaziale e illuminazione proiettata dai laser, hanno fatto da corona i droni che volavano, pieni di fasci luminosi dardeggianti sulla folla. E in mezzo a tutto lei, la nuova smart, una vettura che lascia tutto com'era, con molto di modo, perfino nel modo di proporsi al pubblico. Per tutti coloro che ordineranno la macchina entro il 31 di dicembre, offriremo l'assicurazione e responsabilità civile, furto e incendio, compresa nel prezzo per un anno, ma senza quelle tipiche clausole vessatorie che risolvono queste offerte caratterizzano. È tutto trasparente, la macchina la possono guidare tutte, anche i neopatentati e non ci sono franchigie nascoste ed occulte. E questo ha un valore molto importante, in particolare per quelli che vivono nelle grandi città del centro e del sud. Ma non basta, perché ai nostri clienti, ai nostri clienti che posseggono una smart, facciamo un altro regalo. Quando ci portate la vostra macchina in permuta, ribaltiamo completamente la logica. Le macchine che hanno più chilometri, ve le paghiamo di più, un centesimo a chilometri. Quindi significa che se la vostra smart ha 100.000 chilometri, la valutiamo 1.000 euro in più. Per quanto riguarda i prezzi, attacchiamo da 12.750 euro per la 4TU e soltanto 650 euro aggiuntivi per la 4FOR. Ma a questo prezzo vediamo delle macchine che sono estremamente complete, con tutti gli allestimenti che voi richiedete, disponibili nell'allestimento di serie. Quindi questo vuol dire che noi abbiamo il servo sterzo di serie, i cerchi in lega di serie. L'autoradio con tutte le connessioni agli smartphone, con il bluetooth, con il via voce, sono di serie. Tutti i sistemi ultimi di sicurezza, compreso l'airbag per le ginocchia e compreso un sistema controvento che rende la Maz Martin sensibile al vetto naturale, sono di serie. Assieme al volante multifunzione, esattamente come quello di Mercedes-Benz. Oltre al cambio automatico a cui voi siete abituati, che fa un salto tecnologico incredibile perché diventa doppia frizione con cambiate velocissime, facciamo anche un nuovo cambio meccanico. Molto cittadino, con la prima che può essere inserita anche in velocità, ma che consente di fare la doppietta. E sulla Sport Edition One è il cambio perfetto perché consente di utilizzarlo sul mistro stretto con grandissima soddisfazione. A bordo c'è tutto, insomma, e la scelta dei motori, montati posteriormente, è vasta e ben articolata, come l'abbinamento con i cambi. Fuori dal comune è il diametro di sterzata poi della Fortu, che gira tra i marciabiedi di una via stretta, come fosse su un piazzale. Allora, perché aspettare? Se rientra nei canoni automobilistici personali, può rappresentare una soluzione ideale. Provare per credere!